Ha chiesto di parlare il senatore Bagnani, ne ha facoltà per nove minuti. Grazie signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, raccolgo dal suo discorso l'auspicio dall'efatto che i cittadini possano essere informati e interpreto questo come un successo politico della Lega, nel senso che l'aver sollevato questo dibattito le fa pronunciare questo auspicio che evidentemente è pro futuro, dal momento che della trasparenza e della leale volontà di condivisione dei contenuti di uno dei punti qualificanti del prossimo Consiglio, cioè della riforma dell'accordo messa, non vi è stata grande traccia e lo dico per fatti concludenti, basta pensare al fatto che da quando Paolo Savona ha lasciato il Ministero degli Affari Europei lei ha ritenuto di accentrare le deleghe relative a quel ministero anziché volerle condividere con un ministro, segnatamente con un ministro della Lega, cosa che ha poi fatto quando la trattativa è andata più o meno in porto come pareva che lei auspicasse o no, non si capisce perché non si è realmente capito fra l'altro se questa trattativa sia andata in porto e questo è un problema di metodo che ho già evidenziato la volta scorsa. Ma c'è anche un altro aspetto, vede, lei ha giustamente stigmatizzato il fatto che si rischi di ingenerare delle paure irrazionali, ma per questo c'è un rimedio molto semplice che è la piena e puntuale osservanza delle regole del coinvolgimento parlamentare. Oggi è l'11 dicembre, è passata una settimana dall'Eurogruppo, noi ancora non sappiamo se il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze onorerà la Commissione Finanze dell'invito che gli è stato recapitato per descriverci che cosa è successo a quel loro gruppo, siamo certi che lo farà, ma vede, io rimango con una questione, una questione irrisolta per me, come mai un trattato che nelle sue parole è innocuo, non apporta modifiche sostanziali e per l'Italia è addirittura inutile, è stato recato all'attenzione dei parlamentari con modalità analoghe con quelle che il TTIP è stato presentato agli europarlamentari, stanza chiusa, divieto di prendere appunti, divieto di comunicare con l'esterno, evidentemente, tanto innocuo non era se lo si dovrebbe tenere sotto simili vincoli di segretezza, però non parlerei come hanno fatto i colleghi della Camera Bassa di tradimento, non userei questi toni accesi, non siamo di fronte a un melodramma, un Tristano Isotta, mi sembra più una commedia all'italiana, di quelle ambientate in provincia, lui, lei, l'altro, cara, non è come pensi tu, dammela la fiducia e io sposerò il tuo progetto di contrastare i poteri europei. E' andata avanti così per parecchio tempo, ma non è il tempo di recriminare, vale la pena però di ricordare quando è che si è interrotta questa commedia? Si è interrotta quando noi abbiamo avuto la plastica conferma del fatto che il gruppo dei nostri ex alleati non ci avrebbe più sostenuto, come aveva fatto, nella nostra azione per cercare di contrastare e di fornire delle proposte alternative rispetto a quello che dall'Europa arrivava come un pacchetto preconfezionato. Io ravviso qualche lieve problema di metodo in tutto quello che è successo, che vorrei sottoporre all'attenzione del mio Presidente e degli onorevoli colleghi. Riassumendo direi che Dio è morto, l'Unione Europea è moribonda e la maggioranza non sta troppo bene, ma questo lo vediamo in Commissione Bilancio. Perché dico che l'Unione Europea è moribonda? Non si può vendere questo accordo con questi contenuti e concluso in questo modo come un grande successo del progetto politico europeo? Perché non lo è e siccome purtroppo Napoleone diceva non datemi dei generali bravi, datemi dei generali fortunati, lei purtroppo ha la sfortuna che in questo momento proprio sul blog della London School of Economics, Paul De Grauwe che sta alla mia scienza come Irnerio che ci guarda dall'assù sta alla sua, ci spiega per quali motivi questo accordo non funziona. Il primo motivo è un motivo politico, è del tutto evidente che il tentativo di comunitarizzare, di introdurre il metodo comunitario nel meccanismo del Fondo Salva Stati è fallito e questa non è una premiere. Pensiamo al Fiscal Compact. Il Fiscal Compact nel suo articolo 16 prevede l'obbligo di recepimento nei trattati dopo un periodo di prova di 5 anni. Il recepimento non c'è stato, questo significa che si ritiene che i parametri del Fiscal Compact siano stati fallimentari o che nessuno in Europa ci vuole mettere la faccia o ha la volontà politica di recepirli nei trattati. Bene, questi trattati fallimentari sono esattamente quelli che il MES nella versione riformata recepisce e il MES a sua volta è un ulteriore fallimento perché quando nel 2015 parte, parte con l'idea di fare un fondo monetario europeo, di inserire anche questo nei trattati, di sottoporlo a un circuito politico che preveda anche l'intervento del Parlamento europeo o quantomeno che non comprime il ruolo della Commissione. Sotto questo aspetto il progetto è fallito, il ruolo della Commissione è stato compresso, non si può banalizzare questa storia perché è un passo, magari piccolo, ma una direzione totalmente sbagliata rispetto a quella che ci viene proposta come salvifica per il progetto europeo. Vogliamo parlare del fatto che la riforma si proponeva di snellire il meccanismo di sostegno finanziario ai paesi in crisi? Sì, lo fa, ma a condizioni nelle quali oggi forse rientra solo la Germania. Tutti gli altri paesi che stanno fuori hanno sostegno esattamente alle stesse condizioni di prima, cioè sottostare un memorandum. Quindi di fatto abbiamo una istituzionalizzazione della troica che a parole nessuno voleva, neanche lei, signor Presidente del Consiglio. Però alla fine ci troviamo con questa minestra qui. Perché? Ma. E poi c'era anche l'idea di rinforzare il meccanismo di salvataggio delle banche, il fondo di risoluzione unico, ma sinceramente lo stiamo facendo con due spiccioli. Cioè le risorse del fondo di risoluzione più quelle versate nel MES insieme sono circa un quarto dei fondi che sono stati necessari per salvare le banche del nord e del sud fino al 2014. Di che cosa stiamo parlando? Quando ci sarà una crisi sarà necessario quello che c'è nei paesi civili, un intervento della banca centrale. Quindi questo MES a cosa serva? Non lo si capisce. Ci raccontate che tutti lo vogliono, ma allora non si capisce perché non lo hanno recepito nei trattati. E quindi, insisto, il MES è un momento di debolezza dal mio punto di vista del progetto europeo. Ma ci sono problemi di metodo anche qui, anche nel nostro paese, vede. Il mancato coinvolgimento del Parlamento deve terminare. Io spero che lei si faccia l'attore al Ministro Gualtieri del nostro desiderio di vederlo e di ascoltarlo su quello che è successo all'ultimo Eurogruppo. E deve terminare anche perché senza coinvolgimento dei Parlamenti la logica di pacchetto diventa fallimentare e lo ha già dimostrato questo fallimento. Perché fallimentare? Perché, vede, lo sappiamo che i tre pezzi del pacchetto, la riforma del MES, l'EDIS e il BIC, viaggiano su velocità diverse. E, in effetti, il risultato di questo approccio non può essere che uno. Se lo si prende sul serio, si blocca completamente il processo di riforma europea, aspettando che l'ultimo pezzo arrivi. E l'ultimo pezzo non arriverà mai, non perché la Lega è cattiva e euroscettica, ma per i nain dei nostri fieri alleati tedeschi. D'accordo? Se invece non lo si prende sul serio, si prendono delle fregature e la fregatura è già stata presa. Perché i termini del dibattito, quando lei non c'era, ma qualcuno nel dibattito c'era, erano ben diversi ed erano avere un vero EDIS in cambio dell'adesione al MES. Una volta che avete ceduto sul MES c'è stato un arretramento della posizione nel nostro Paese. Tant'è vero che adesso il dibattito è fra avere un EDIS, meccanismo di riassicurazione indebolito, in cambio di ponderazione per il rischio di titoli di Stato. Che voi dite di non volere? Ma certo, chi direbbe di volere una cosa assurda e irrazionale? Nessuno. Ma d'altra parte dicevate anche, e avevate preso l'impegno di rifiutare, dicevate anche di non volere condizionalità all'interno del MES, condizionalità che limitassero la crescita. E invece ci sono. Allora a questo proposito forse sarebbe anche importante accendere una luce su qual è il reale stato del negoziato sull'EDIS, perché noi sappiamo vagamente che c'è stato un high level working group che ha lavorato, non sappiamo chi ci fosse per l'Italia, non si rinviene negli atti parlamentari il momento in cui su un aspetto così importante che voi stessi dite essere importante, questo qualcuno abbia preso direttamente o indirettamente un mandato a negoziare. Non è che anche in questo caso vi siete venduti, in termini figurati ovviamente, qualcosa e poi verrete a dirci sì ma sette mesi fa, settordici mesi fa è già stato tutto approvato, ora non si può più dire niente. Questo metodo lo avete capito, d'ora in avanti questo Parlamento non lo accetterà più, anche perché si è capito che per promuovere un reale dibattito nelle sedi europee la subalternità, la acquiescenza, le buone maniere, i toni pacati servono fino a un certo punto, occorre anche andare lì e affermare le proprie ragioni con energia, occorre anche appoggiarsi a un Parlamento che deve essere coinvolto, perché la forza dei Parlamenti nazionali è quello che dà forza ai vari negoziatori in Europa, ma a questo scuopo mi duole ricordarglielo, gli italiani appena sarà loro possibile farlo, cioè credo molto presto, si rivolgeranno a Matteo Salvini. Grazie signor Presidente.